Ciao a tutti, io sono Ilenia e finalmente vi porto i miei preferiti Essendo stato giugno un mese molto impegnativo a causa degli esami oltre a mostrarvi i pochissimi libri che ho letto a giugno vi voglio dire anche i miei preferiti molto 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 in generale quindi partiamo subito dai libri letti a giugno perché sono veramente pochini partiamo dal primo che ho letto ve l'ho già mostrato Il Cacciatore di Aquiglioni di Caledostaini sto preparando una recensione di questo quindi ve ne parlerò molto specificatamente nella recensione perché si, arriverà un giorno molto buono un altro libro che ho letto a giugno che è stato veramente l'ultimo perché sono andato non molto a caso giuro che non è a caso ed è Il Sangue degli Alpi di Andrei Zsaposkis non so come si pronuncia il cognome ma in lui spero di concludere la serie prima di tutto il netto tempo quindi appena finirò tutta la saga perché è una saga ve ne parlerò perché vorrei appunto avere più informazioni e non solo basandomi sul primo libro che è questo un altro libro che ho letto a giugno che è il terzo e poi sono finiti perché sì, questi sono un po' molto poveri parlando di Morning Star, la guerra venditore di Pink Brown questo è il terzo della serie di Red Rising se non sbaglio dovrebbero esserci altri due libri al seguito però non sono sicura se non l'ho capito in realtà la serie si compone di Red Rising, Golden Sun e poi Modern Star in Italia ci sono questi tre, anzi questo è proprio l'ultimo uscito in Italia ora partiamo dal mio libro preferito in assoluto perché ragazzi, in realtà vi ho morbato questo libro perché io in un mese che faccio il video vi ho mostrato solo questo però non fa niente, lo dovete vedere lo stesso, ok? ed è Il bambino nel fiume in distanza ho già registrato una recensione su questo arriverà presto, ve lo prometto, anzi prima del previsto e quindi prendetevelo, ok? però oltre a questo che già vi ho fatto vedere vi voglio mostrare un altro libro cioè, la verità sul caso del Chever di Joe Biden arriverò a sentire anche questo ve lo prometto, vi giuro, vi giuro che io riuscirò a fare tutte queste presezioni ma io non lo so come lo farò però lo farò, giuro ma sempre riguardante i libri autori, c'è l'altra, eccetera vi voglio dire i miei due autori preferiti mostrerò di questi due autori il primo libro che ho letto il primo che vi cito è Jeffery Miller con il bacio d'acciaio ovviamente mi sono innamorata follemente del protagonista Lincoln Rhyme e quindi io adesso sto cercando di recuperare tutti gli altri libri dedicati a Lincoln Rhyme ovviamente poi il secondo autore che vi cito ovviamente è uno dei grandi scrittori americani che non potevano citare tutti gli uomini a loro Orlando di Stephen King con l'ombra dello scorpione questo libro è un mattone ma io tipo l'ho adorato dalla prima pagina fino all'ultima e ora parliamo di un argomento molto molto particolare ossia musical perché bene sì io sono amante di musical io tutti quelli che sono su youtube li ho visti praticamente tutti ovviamente ve ne parlerò dopo perché adesso vi voglio parlare prima dei miei due musical preferiti in assoluto che sono stata già a vedere al teatro però prima vi faccio vedere i libri da cui sono stati tratti perché ovviamente sono stati tratti da due libri il primo è Notre Dame de Paris di Vittorigo mentre l'altro è Romina e Giulietta di William Shakespeare allora non vi sto a raccontare la trama perché penso che la conoscierebbero male tutti allora io vi racconto molto brevemente di come sono venuta a conoscenza di questi due musical allora io da bambina amavo tantissimo i cartoni Disney come penso un po' tutti quanti perché non si possono non amare Disney e in particolare mi piaceva tantissimo il Gob di Notre Dame quindi mia madre decise di farmi vedere il musical di Notre Dame de Paris quindi in televisione sono riuscita a non sbaglio della replica di Verona che è stata la prima tappa in assoluto di Notre Dame nel 2002 io avevo quattro anni però mi è piaciuta tantissimo mi è piaciuta tantissimo e quindi io sono 16 anni che sono in fissa quindi poi tramite Notre Dame de Paris poi sono venuta a conoscenza di Romina e Giulietta perché nel 2011-2012 fecero un altro tour tra i dieci anni appunto però con un cast completamente diverso e tra questo cast dieci anni di Notre Dame c'è anche un attore che fa parte anche del cast di Romina e Giulietta ossia Riccardo Maccaferri che in Notre Dame fece il Poeta Gringoire mentre Romina e Giulietta e ben voglio il cugino di Romeo e quindi innamorata fortemente anche di Romina e Giulietta e sono andata a vedere anche Romina e Giulietta ovviamente perché sì ma partiamo da Notre Dame perché è stato il primo e sono andata a vedere Notre Dame con 14 anni due anni fa perché sono state la prima volta che sono venute a Chiedi poi anche l'anno dopo sono andata perché non potevano andarci due volte allora questo qui è il biglietto di due anni fa ovviamente ero sulle gradinate ma essendo la Civitella di Chiedi molto piccolina vedevo abbastanza vicino ovviamente questo me l'ha pagato papà perché sono andati tutti quanti insieme io, mia sorella e i miei genitori ma l'anno dopo me lo sono pagata da sola perché avendo il bonus 500 euro di Renzi mi sono ovviamente comprata quello da 93 euro bello in prima fila le poltronne ero una serie di plastica in realtà però sì, ero in quarta fila o quarta punta fila comunque è molto molto vicino tipo ho adorato tantissimo questo è il biglietto dell'anno scorso molto rovinato ma è una storia molto particolare mi dispiace bello ascoltarò forse intorno ma sappiate che è una storia molto particolare mentre Romeo e Giulietta è stato molto agente infatti sono stata a teatro a Roma il 2 giugno alla pola lotta mattica di Roma adesso qua il biglietto l'ho comprato anche questo con i soldi di Renzi perché avendolo comprato a dicembre per giugno sono andata solo con mia mamma perché mio padre era a lavoro poi non aveva voglia di vederci la mia sorella proprio, sì, figurati se mia sorella voleva venire fino a Roma a portare a me, a vedere Roma e Giulietta bene, spero che questo video vi sia piaciuto in tal caso lasciate un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non perdete nessun altro video e in giù, in descrizione trovate il mio profilo Instagram se mi vuoi seguire anche su Instagram io ne sarò molto molto contenta e noi ci vediamo alla prossima ciao